Buongiorno a tutti, sta per iniziare un'altra giornata di lavoro, mi dirigo in officina e oggi dovrò fare due campioni da mostrare al cliente, si tratta di un corrimano e quattro verticali, che poi il cliente sceglierà quello che gli piace e poi dovrò fare una porta curvata. Adesso vado in officina e vi mostro. Mentre mi dirigo in officina vi faccio vedere la zona industriale di Londra, ecco qua. Tutte le mattine per andare al lavoro passo da questo ponte. E niente, cambiamento di programma. Una volta arrivato in officina mi hanno detto di andare in installazione col capo e adesso vi faccio vedere cosa devo installare. Praticamente devo fare un'apertura su questo grigliato e adesso vi faccio vedere come. Per prima cosa ho tagliato qui il grigliato e dopo ho saldato il telaio con l'apertura che avevo fatto precedentemente in officina. Dopo l'installazione ci siamo dovuti fermare da altri due clienti per prendere le misure e adesso sono in officina per fare due campioni per il cliente. Questi sono i due campioni che ho fatto per il cliente, sono due verticali con un pezzo di corrimano e in più un corrimano da montare sul muro. Il cliente ha chiesto di voler vedere questi due campioni e dovranno venire come da disegno color ferro. Quindi verranno pitturati con la pittura a polvere trasparente. Ditemi nei commenti cosa ne pensate della mia giornata lavorativa.